Si è spento 99 anni nella sua casa di Latisana, Giuseppe Comand, considerato l'ultimo testimone delle foibe. Nel 1943 aveva aiutato i vigili del fuoco di Pola mentre recuperavano i cadaveri degli italiani uccisi dai partigiani titini. Giuseppe era nato nel 1920 e il 13 giugno prossimo avrebbe compiuto cent'anni. L'anziano in vita era considerato testimone di primo peso della tragica vicenda che ha segnato i territori colpiti dalla furia di Tito, un orrore che non può essere dimenticato. Giuseppe Comand si era diplomato in Agraria per poi arruolarsi dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e andare a combattere in Africa. Poco dopo però tornò in provincia di Udine come soldato della difesa del territorio. Dopo altri due anni nel 1941 fu trasferito nel suo borgo di Sussac a fiume come ha detto i vigili del fuoco. Dopo l'armistizio dell'8 settembre Comand venne licenziato da ogni impegno. Il suo unico obiettivo era quello di portare alcuni documenti militari a fiume per poi trovarsi di fronte all'orrore delle foibe e agire in prima persona per aiutare a disseppellire i cadaveri. Giuseppe Comand nel 2017 a 97 anni ha ricevuto l'onorificenza di commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Mattarella.